Cari fratelli, alcuni di voi ci hanno scritto chiedendoci come possono fare parte della nostra comunione e forse partecipare in progetti comuni per il Signore. Sono qui con fratello Giuseppe. Fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Dio ti benedica, Angela. Quali sono i requisiti? Vuoi dire requisiti? Ah, sì. Beh, sono quelli biblici, niente di speciale, cioè è come faceva Gesù con i suoi discepoli, così facciamo noi, anche se naturalmente siamo piccolini, però diciamo quella è la linea, la stella da seguire, quelle sono le norme. I seguaci di Gesù hanno apprendito direttamente da Gesù? Hanno appreso. Sì, allora questi fratelli devono venire qui per apprendere? No, 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 è chiaro che Gesù è la perfezione, noi stiamo imparando, io sono discepolo di Gesù come chiunque e io sto imparando come chiunque, solamente che tanti anni che giro per il mondo evangelizzando ho qualche millimetro, qualche grammo più di esperienza, sono diciamo un asino più vecchio con i capelli più bianchi e quindi posso condividere come io ho imparato. Allora, è sempre, io sono, mi interessano molto i libri dottrinali perché è lì che i gruppi vanno fuori binari, allora quando, non so cosa fare, quando è sempre il Vangelo e cerco, noi non abbiamo un libro di dottrine, semplicemente si legge il Vangelo, cerchiamo di tenere il più semplice possibile. Poi quando ci sono delle cose che nel Vangelo non ci sono scritte, come per esempio riparare, dobbiamo riparare una macchina? No, dobbiamo andare nel paese A o paese B, chiaro il Vangelo non dice questi dettagli, allora ci si riunisce e ci si consiglia, come dice in Atti capitolo 15, e la cosa sembro giusta, sembro buona allo Spirito Santo e a noi di fare questo. Quindi non è che lo Spirito Santo decide tutto lui, non è che decide tutto Dio, assolutamente no, e il Signore ci ha dato un cervello, ci ha dato una mente, ci ha dato il senso, i doni della saggezza, perché Dio vuole che ci si consiglia, ok? Allora non devono venire qui, dici? Dunque, per unirsi alla nostra comunione, certo se vengono qui è più ispirante, è bello quando i fratelli demorano insieme, sarebbe una cosa migliore però, siccome noi abbiamo fratelli che ci scrivono dall'Australia, dagli Stati Uniti, dall'Europa, dalle Filippine, dal Sud Africa e non è realistico pensare che tutti questi fratelli possono venire. Ciò nonostante diversi fratelli da diverse parti del mondo hanno espresso desiderio di venire e noi li stiamo aiutando il più possibile, è la cosa migliore, però noi siamo molto organizzati ad, diciamo, tenersi in contatto, avere comunione con i fratelli che non possono venire per ovvi motivi, ok? E allora diamo addestramento come essere missionari, come essere discepoli, come sopravvivere al tempo della fine e come sopravvivere alla tribolazione che sta venendo in modo vittorioso, perché ci sarà la Chiesa che perderà contro l'Anticristo, c'è la Chiesa cristiana che perderà contro l'Anticristo, come dice in Apocalisse 13, verso 7 e Daniele 11, 31-35, Matteo 24, dal verso 8-9 fino al 22, c'è una Chiesa che perderà contro l'Anticristo e c'è una Chiesa che vincerà, la cosiddetta Chiesa di Filadelfia, la Vergine con l'olio, e le Vergine senza olio perderanno. Quindi per essere parte della Chiesa vittoriosa bisogna abbandonare tutto per il Signore Gesù, metterlo al primo posto, cercare il Regno di Dio e la Sua giustizia, bisogna ascoltare la Sua voce e obbedire. Ora, questo addestramento noi che insegniamo quello che noi stiamo imparando, non è che siamo mister perfetto qui, non ce ne sono, e insegniamo come noi, sono tanti anni che viaggiamo, evangelizziamo, facciamo basi in diverse nazioni, in diversi paesi, e andiamo in un posto, prendiamo la casa, operiamo la Chiesa, e il Signore ci aiuta a superare le battaglie così. Noi condividiamo come possiamo attraversare, entrare nel tempo della fine, che adesso siamo nel tempo della fine, in un modo vittorioso. Ora, questo addestramento noi lo diamo e di persona, che in maniera migliore, e poi però anche per corrispondenza, quindi per telefono, per email, attraverso testi che inviamo per posta, attraverso internet, attraverso YouTube. Abbiamo più di 100 video che parlano praticamente di tutti i soggetti, e quindi abbiamo, diciamo, un coaching spirituale, come si dice in italiano, addestramento spirituale, che lo mandiamo per corrispondenza ai fratelli che desiderano far parte della nostra comunione. Come far parte della nostra comunione? A, venire qui, B, ricevendo il nostro corso per corrispondenza dove sono. Va bene? Questo addestramento a distanza è effettivo come un addestramento personale o come funziona? Beh, è chiaro che di persona è meglio, però non è che Gesù oggi lui stesso non ci addestra di persona fisicamente, come fece con i dodici, ma lo fa spiritualmente, tra il suo spirito santo. E quindi non è obbligatorio che i fratelli debbano venire qui di persona, no. Cioè lo facciamo anche per corrispondenza, che anche per corrispondenza è buono lo stesso, perché per esempio io ho sei figli e tutti e sei studiano, vanno a scuola per corrispondenza, riceviamo libri a livello internazionale che, diciamo, per posto i nostri bambini studiano nella casa, non hanno l'insegnante che ha scritto i libri di persona, però l'insegnante ha mandato i libri e i nostri bambini studiano perfettamente, hanno superato gli esami nella scuola secolare, nella scuola pubblica e hanno superato. Infatti sono più avanti, perché non passano attraverso esperienze di droga, con la pornografia, bullismo, egoismo, violenza, lesbianismo, omosessualità, tutte le cose che in molte scuole pubbliche devi fare un bagno nella pozzangra del fango, insomma è una pozzangra per maiali in certe scuole pubbliche, c'è ogni porcheria. E quindi è una statistica internazionale che i bambini che studiano a livello privato nelle case stesse curate dai genitori che li amano veramente sono sempre più avanti. Quindi questi bambini qui in un'ora di scuola fanno quello che in una scuola pubblica si ci vuole quattro ore, va bene, hanno molto più tempo libero. Allora lo stesso metodo di misura vale per i fratelli che non potendo venire, siete benvenuti se venite fratelli assolutamente, però se non potete venire lo capiamo benissimo e noi vi mandiamo per corrispondenza tutti i nostri insegnamenti, niente escluso, tranne la nostra presenza fisica. Sì, grazie Gesù. Questi insegnamenti che sono una preparazione per il tempo del fine, come essere preparati, che addestramento è? Che tipo di addestramento? Che include? Non è solo per il tempo del fine, noi insegniamo anche come praticare la guarigione miracolosa, come superare problemi di finanze, come superare problemi che potrebbero portare al divorzio, alla depressione, al suicidio, all'escoraggiamento, alla fede passiva, insegniamo anche come vincere anima, come evangelizzare i propri figli, la propria famiglia che può darsi che non crede, evangelizzare nel suo posto del lavoro cercando di evitare di essere rigenziati, cioè non è solo del tempo del fine, è un curriculum completo, come essere cristiano oggi, in questa incredibilmente complessa, intricata società anticristo di oggi. È vero, sì. Quindi il tempo del fine è uno dei soggetti come imparare le profezie bibliche, quando Gesù ritorna, il rapimento, ma anche come il battesimo del Spirito Santo, eccetera. Sì, questo voglio chiedere, puoi darci una idea completa di quello che questo addestramento include. Beh, praticamente l'ho appena fatto la lista, ma se non mi sbaglio, tu dovresti avere lì il nostro piccolo curriculum, lo vuoi prendere, magari lo leggi tu stessa. Sì, ho dei punti, però posso leggerli in inglese, mi aiuti? Sì, sì, certo. Per farlo più rapido. Ok, il mio italiano funziona ancora, è ancora una delle mie principali lingue, grazie a Dio. Ok. So, the points of our instructions, instructing people, i punti principali della nostra, istruire i nuovi discepoli, i fratelli, i nuovi missionari, insegnare loro come vivere per fede, with or without jobs, avendo un lavoro secolare oppure anche senza. This is from our experience. Questo basato sulla nostra esperienza, come noi l'abbiamo fatta e tuttora facciamo. Right, and considering that the end time is coming, and without the mark of the beast, you need to learn to live by faith. E considerando quando viene il marchio della bestia, presto, 666, come poter sopravvivere senza poter comprare né vendere. All right. Next point is learning how to evangelize. Prossimo punto è imparare come evangelizzare. To be active Christians. E come essere cristiani attivi e non passivi. Yes. Next, the end time Bible knowledge and end time chronology. Prossimo punto è una conoscenza della cronologia profetica biblica e del tempo del fine. Yes. Then how to practice miraculous healing, just like you said. Come dicevamo mettere, apprendere, a poter praticare la guarigione miracolosa nella nostra famiglia e fuori alle persone che evangelizziamo. Then how to overcome the soon coming world financial collapse. Come per camminarsi, superare, prepararsi al presto in arrivo crollo finanziario mondiale. Learn to prepare to go through victoriously the great tribulation. Come imparare a superare vittoriosamente la grande tribolazione che sta molto, molto presto per iniziare. And the mark of the beast. E il marchio della bestia. And, this is very interesting for me, how to hide in plain sight during the persecution. E come potersi nascondere durante la tribolazione, quando dovremmo, quando dovremmo vivere la maggior parte di noi senza il marchio della bestia, imparare a nascondersi in piena vista. Cioè non nelle catacombe, nei sottosuolo come ai tempi di Roma, non nel desereto del Sahara, non sulle montagne dell'Himalaya, ma come nascondersi alla luce del sole. cioè davanti alla vista di tutti, però passando inosservati. Cioè come praticamente una spia, che so, una spia inglese a tempi del nazismo, una spia che si trovasse nella Germania di Hitler, in che modo operavano. Cioè sarà una situazione più o meno così. di noi. Right, next. How to find true brethren and recognize the false one? Come poter discerne tra i fratelli veri e fratelli falsi, fratelli che, con i quali si può dare la vita uno per l'altro, i fratelli invece che possono essere dei potenziali Giuda. Right. Che ti tradiranno e quindi te, i tuoi bambini, la tua famiglia. Come poter avere una chiesa nella casa a tempo pieno, in qualunque momento, in qualunque luogo andremo, stiamo vivendo o andremo a vivere. How to survive financially in the end time. Come sopravvivere finanziariamente nel tempo della fine durante la tribolazione. Quando ci vorrà il marchio della bestia per questo. And then, very important, how can we know the timings when to move and where. E' importante come sapere quando è il momento di spostarsi, partire e dove andare. How to hear God's voice, yeah. E come ascoltare la voce di Dio. These are the main points and these are the things we need to start learning today. Queste sono alcuni dei principali insegnamenti che noi diamo nel nostro addestramento sia quando i fratelli vengono delle persone sia quando non possono venire lo facciamo per corrispondenza. Right. And it's time to get ready now. Not when the mark will come. è un momento per prepararsi adesso subito, non quando arriverà il marchio della bestia o l'abominazione dell'isolazione come dice Matteo 24 a 15 che bisognerà scappare e Gesù ha detto che non ci sarà tempo per andare a prendere una giacca dentro la casa quindi tantomeno la moglie, i figli dovrai abbandonare i tuoi bambini a casa a scappare e i bambini che andranno lì a minacciarli col marchio della bestia. quindi non possiamo aspettare quando all'ultimo momento prepararsi vogliamo prepararsi come dice Proverbi 23 22-3 dice il giusto vede venire il male si nasconde ma il semplice lo stolto tira diritto e poi ne importa la pena quindi arriva il marchio della bestia come aggiungo un paio di linee qui come ai tempi i cristiani nel 1917 che in Russia non si prepararono non si spostarono eccetera andarono a finire nei gulags furono distrutti dalla rivoluzione bolshevica in Germania i giudei che non si prepararono quando all'orizzonte cominciarono a spuntare le nubi nere del nazismo andarono a finire nei campi di concentramento nei forni crematori negli Auschwitz eccetera quindi adesso siamo a quel livello lì le nubi si già ci stanno avvicinando sono nubi anticristo nuovo ordine mondiale sono i musulmani che il diavolo userà per perseguitare i cristiani attentati di tutte le parti eccetera una domanda adesso è il momento di prepararsi in questo momento e già siamo arrivati al momento che è assolutamente importante poter discernere la voce di Dio poterla ascoltare e sapere se siamo nel posto giusto altrimenti dovremmo spostarci e dove spostarsi quindi vendere tutto abbandonare quello che non si può vendere e spostarsi a più presto perché presto sarà cento volte più difficile di adesso ci saranno restrizioni non potrai avere un passaporto senza avere un microchip il marchio della bestia e quello che sarà una domanda che penso che alcuni fratelli vorrebbero chiedere questo addestramento se paga quanto costa? si paga ok quanto costa? costa troppo per pagarlo beh è stato tutto pagato col sangue di Gesù il Vangelo è gratis il Vangelo non si paga Matteo 10 dice gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date quindi tutti i messaggi che il Signore ci dà sono sempre disponibili gratis a chiunque li vuole attualmente li abbiamo messi su internet sono su Youtube potete scaricarli gratis non c'è nessun problema però i fratelli che vogliono far parte parte della nostra comunione diciamo fratelli ai quali rispondiamo al telefono che hanno domande problemi di tanti tipi che gli rispondiamo a livello personale eccetera che vogliono far parte della nostra comunione di solito questi fratelli diciamo noi mettiamo la decima in comune perché con questa decima rendiamo possibile la nostra missione non è che il denaro non cresce sugli alberi o andiamo a lavorare come fa il testemone di Geova che lavorano e poi vanno a evangelizzare il sabato e con lo stipendio pagano l'evangelizzazione o altrimenti i fratelli devono condividere le decime condividere le decime ma le decime perché alcune chiese dicono che che se uno non paga la decima va a essere it's gonna be cursed sorry ma ci sono ci sono chiese che dicono che raccolgono le decime e se uno non paga la decima alla chiesa viene sotto maledizione sto parlando di maledizione che ha capito la tre allora se uno non paga la decima che passa si oggi c'è molto vangelo di prosperità che questi predicatori di prosperità che se non gli dai la decima se non ti vendi la casa se non gli porti i sosti devi fare qualcosa eccezionale se vuoi che Dio ti guarisca di una malattia per stare dentro il patto di Dio eccetera questi sono mercenari sono falsi pastori e diciamo sono dottrine del diavolo non è vero che Dio ti maledice allora la decima è obbligatoria o no? e cioè è vero che Dio ti malediceva voglio chiarificare Dio ti malediceva nel Vecchio Testamento infatti Malachia capitolo 3 dice voi mi avete derubato e tutta la nazione voi mi avete rubato e siete maledetti dice Malachia capitolo 3 dice voi siete maledetti perché voi rubate a Dio e non pagate le decime cioè infatti le decime è una cosa cioè dipende dalla prospettiva uno dice devo dare la decima ho venduto la casa io dovrei dare a Dio 50 mila dollari 10 mila dollari come faccio a dare 50 mila dollari sì però è prospettiva sbagliata se guardi l'altra prospettiva Dio mi ha dato ho venduto la casa che so mezzo milione di dollari Dio mi ha dato 450 mila dollari devo pagare solo 50 dipende dalla prospettiva il bicchiere mezzo vuoto mezzo pieno quindi Dio ti dà la salute ti ha dato un matrimonio ti ha dato i figli ti ha dato tutto cosa vuoi che sia dare a Dio 10% quindi dipende dal punto di vista però è giusto pagare la decima però nel Vecchio Testamento c'è la maledizione la maledizione è stata tolta il Nuovo Testamento ora questi falsi predicatori queste chiese false questo non te lo dicono che la maledizione è stata tolta è stata un po' come quando in America è stata la guerra civile per togliere ufficialmente per togliere lo schiavismo e però molti schiavisti del sud degli Stati Uniti hanno continuato a tenere gli schiavi e non gli hanno detto agli schiavi che erano liberi e per molti anni molti schiavi del sud Alabama Texas Arizona eccetera hanno continuato ad essere schiavi non sapendo che il sud aveva perso la guerra il nord aveva vinta gli schiavi erano liberi poi diciamo il nord il presidente Lincoln ha fatto una legge che si chiamava Emancipation Proclamation in italiano sarebbe la proclamazione della emancipazione qualcosa così cioè la proclamazione della libertà gli schiavi non lo sapevano cioè molti cristiani non sanno che sono liberi in Cristo e continuano ad essere schiavi sotto la legge del Vecchio Testamento delle decime eccetera sotto le fruste che è la frusta dei predicatori che dal pulpito le frustano con le scritture li maledicono all'inferno voi siete sotto maledizione perché non pagate la decima alla nostra chiesa questi sono falsi predicatori falsi pastori false religioni e si prendono si approfittano che sono ignoranti che gli schiavi non sanno che sono stati liberati c'è stata l'emancipazione c'è un proclama del sangue del calvario Cristo ha terminato la legge non siamo più sotto la maledizione del del Vecchio Testamento come dice in Galati capitolo 3 dice credo versetto 10 dice che la legge è terminata e Cristo ci ha liberato dalla maledizione della legge però questi falsi questi mercenari chiamano il denaro più di Dio predicano un po' Cristo un po' il denaro e amano un po' Cristo e un po' il denaro quindi questi falsi predicatori tengono i fratelli nella paura dell'inferno di perdere la salvezza e di essere maledetti se non danno a loro ai predicatori la decima in realtà la legge è finita certo Dio non ti benedice se non la dai però non ti non ti maledice però allora parlando di nostra missione perché alcuni fratelli pagano la decima a noi se non è necessario perché la decima e cioè non c'è niente di male la decima e cioè è un modo per dare a Dio perché non è che Gesù è venuto a compiere la legge e da Gesù in poi possiamo essere egoisti cioè tu vedi Marco capitolo 10 e un ricco va da Gesù e dice che posso fare per avere la vita eterna Gesù discerne che l'amore per il denaro bloccava la salvezza di quest'uomo e allora gli dice se vuoi essere dice devi dare tutto ai poveri e poi vieni e seguimi e l'uomo ha rifiutato perché aveva dei gran beni ci sono dei peccati come l'egoismo finanziario il peccato di adulterio e qualunque cosa può bloccare la salvezza nel caso del giovane ricco Marco capitolo 10 il suo amore per il denaro bloccava la salvezza quindi attenzione all'egoismo finanziario però se uno non paga la decima non è salvo no no è questo il fatto se tu sei salvo la salvezza non puoi perdere però perde le benedizioni nel caso del giovane ricco Marco 10 nel suo caso la salvezza era bloccata dal suo amore per il denaro però se tu già sei arrivato la salvezza potrai essere un egoista perderai la corona in cielo ti risusciterai a vergogna eterna come dice Daniele 12 verso 2 e 3 come dice in Apocalisse capitolo 2 e 3 messaggio le sette chiese il signore ti potrà vomitare dalla sua bocca perché la chiesa dell'audicea Apocalisse 3 amava il denaro però non parla di perdere la salvezza capisci? è diverso quindi non sei più sotto la maledizione perché vedi nel vecchio testamento tu dici una maledizione maledetto poi te devi morire comunque nel nuovo testamento non sei più sotto maledizione semplicemente perde le benedizioni quindi Gesù non ha tolto le decime non ha mai predicato contro le decime solamente che nel nuovo testamento il dare e non c'erano più limiti il 10% non poteva dare di più infatti Gesù dice al giovane Enrico Marco X vendi tutto e dice ma hai portato la decima e quello già pagava la decima ma nel suo caso la pagava per motivi legalistici noi vediamo in primo corinzi 9 ma Paolo dice se abbiamo seminato cose spirituali vi sembra granchessi e mietiamo cose materiali quindi e perché parla qui? sta parlando delle collette e sta parlando delle offerte chi fa il militare chi va soldato a sue spese dice quindi in primo corinzi 16 1 e 2 dice ogni settimana mettere da parte il denaro che uno vuole donare in secondo corinzi 9 lo stesso Dio amo un donatore allegro chi semina scarsamente e mieterà scarsamente quindi non sei più sotto maledizione però mieterai scarsamente è difficile andare da Dio e dire Gesù sono ammalato di cancro guariscimi Gesù sto divorziando salvo il matrimonio mio figlio è drogato e convertilo se tu sei egoista e non dai a Dio neanche la decima non dai niente quindi non sei non sei sotto maledizione però neanche sotto benedizione cioè sono come un po' terra di nessuno quindi la maledizione è terminata quindi questi falsi mercenari predicatori non dovrebbero dirti che sei ancora sotto maledizione dovrebbero semplicemente dirti però che se tu dai sarai benedetto però loro vanno in più fanno un passo in più dicono se non dai sei maledetto è qui che loro fanno leva sul Vecchio Testamento la legge è terminata Cristo dice Paolo è il termine della legge è legge l'Epistola ai Galati capisci la differenza? noi viviamo di offerte viviamo di decima come potremmo noi avere nutrire le pecore andare a evangelizzare a tempo pieno? come dice Paolo chi fa soldato a sue spese? non potremmo farlo se i fratelli non condividerebbero le decime però se non la danno non sono maledetti possono ancora ricevere il nostro messaggio gratis vanno su Youtube scarichi tutto gratis non devi darci niente però sei egoista se tu e se tu non condividi però non sei sotto maledizione è un egoismo diverso che tu puoi chiedere a Dio di perdonarti domani invece la maledizione è diversa la maledizione puoi morire oggi il Vecchio Testamento il Nuovo Testamento invece puoi pentirti sono stato egoista adesso mi penta è diverso capisci? cioè Cristo nel suo sangue ci perdona quindi capisci? quindi siamo liberi di non pagare la decima però se vogliamo essere cristiani con un cuore dedicato completo meglio pagarla? sì certo se vuoi essere benedetto se non la paghi non sei maledetto come dicono certi falsi predicatori quindi tu è come se tu vai a mangiare in un ristorante e tu mangi in un ristorante e non paghi il conto vai a pagare in un altro ristorante è come se tu per esempio ci sono cristiani che pagano la decima in una chiesa e però questa chiesa è un po' addormentata però il nutrimento spirituale lo ricevono da me o da un altro è sbagliato se tu vieni se io vengo nel tuo ristorante da mangiare da pagare il conto nel tuo ristorante non posso mangiare da te e pagare un altro non posso essere guidato da te nel signore e però pago la decima un'altra chiesa addormentata allora che quella chiesa addormentata sia la tua chiesa va bene quindi devi bisogna scegliere sì ho capito la decima dobbiamo pagarla non per la legge se no per amore per amore e quindi ci sono ci sono i fratelli che possono ricevere tutti i nostri messaggi gratuitamente lo facciamo sempre possono scaricarlo da internet eccetera però i fratelli che vogliono far parte della nostra comunione quindi facciamo domande specifiche mi aiuti in questo mi aiuti in quello e noi prendiamo il tempo per rispondere è chiaro che questi fratelli noi ci aspettiamo che addiriano le decime a noi e non ad altri è logico perché se no sarebbe egoismo quindi anche grazie a loro che la nostra missione continua qui abbiamo sei bambini abbiamo fratelli riceviamo pecore offriamo da mangiare di qui andiamo a regolare il cibo il vestiario alle famiglie povere cioè questo viene tutto dalle decime il viaggio abbiamo preso l'aereo adesso dobbiamo dobbiamo comprarci un forgoncino con molti sedili perché abbiamo molti bambini e questo vengono dalle decime ma mica possiamo andare a rubare per finanziare il lavoro del Signore quindi se uno non vuole dare niente allora scarichi tutto da internet gratis va bene però se vuoi far parte della nostra amicizia vicina certo noi amiamo tutti amiamo anche i nemici però se vuoi far parte della nostra comunione allora ci aspettiamo che se seminiamo cose spirituali che tu condividi le cose materiali cioè se quindi se vendi una casa ricordati che c'è una decima da dare se vendi un terreno c'è una decima da dare al Signore se non vuoi darla a me vai a una chiesa che ti sta nutriendo che tu fai parte e dalla loro e quindi la decima è il minimo perché Gesù ha detto anche vendi la casa e poi dai tutto e dai tutto e dai tutto quindi gloria al Signore è così che cammina l'opera progredisce l'opera del Signore come tu spesso diciamo siamo la mano ma sono l'arm sì uno è la mano il missionario però il fratello che supporta è il braccio che in una chiesa è la chiesa mondiale di Cristo apocalisse che vi trovo dici c'è l'apostolo c'è il pastore c'è il quello che c'è il dono di guarigione il dono delle lingue il dono di interpretazione e c'è quello che c'è il dono di aiutare e tutto lavorando insieme per la gloria di Dio io non ho più domande però se voi cari fratelli avete domande potete scriverci scriveteci e tra l'altro i fratelli che fanno parte della nostra comunione proprio i fratelli al 100% che ci aiutano e che noi li aiutiamo e c'è anche un'altra cosa che noi li invitiamo a visitarci qui cioè non invitiamo non invitiamo tutti perché qui siamo un pochettino riservati la porta non è aperta a tutti ci sono molti Giuda ci sono molti eccetera però i fratelli che veramente che sono fratelli veri noi li invitiamo a visitarci un indomani fra un mese sei mesi un anno il signore mostra di venire in questa zona noi li invitiamo a trovare una casa e mandiamo diciamo come il corso della vita come sono i visti di ingresso in questo paese dove ci troviamo noi e dove ci troveremo dove ci troviamo li aiutiamo in tutti i modi che possiamo poi li invitiamo a avere comunione con noi frequentemente cioè questi sono i fratelli che fanno parte della nostra comunione capisci e quelli che vogliono essere in contatto a distanza can you help me they can write to us even personal counsel tu dici fratelli che invece vogliono far parte della nostra comunione anche senza visitare però a distanza potete scrivere con qualunque domanda e noi abbiamo dei fratelli che sono il cui lavoro è rispondere a tutte le domande che voi fate anche problemi di qualunque tipo diciamo consigli personali e anche qualunque cosa noi stessi abbiamo passato per tanti peripizi e fatto un sacco di sbagli anche nei paesi dove siamo andati c'erano problemi illegali di visti siamo andati in paesi dove c'era qui in sud America dove c'era grandissima criminalità i criminali ci hanno minacciato ci sono posti dove ci sono zone sud America dove sono tutti scuri noi eravamo bianchi e lì sono zone che noi vi consiglieremo di evitare dipende da dove che volete andare se volete viaggiare poi i fratelli che invece non desiderano avere essere molto vicini a noi possono semplicemente ricevere il messaggio su YouTube internet certo è un pochettino molto più un po' confusionario perché non sai mai cosa è più importante cosa è meno importante però perlomeno tutti i messaggi sono lì a disposizione è gratis Amen preghiamo per voi cari fratelli preghiamo che il Signore vi bendice nella vostra decisione che sentite la sua voce che vi parla che vi guidi che vi guidi Amen Amen che il Signore vi guidi fratelli una decisione che dovete fare perché adesso stanno mettendo microchip ai cani e fra poco lo metteranno alle persone e non è che chiedono permesso credo che provocheranno un terrorismo nucleare nel mondo o qualcosa del genere che la gente sarà obbligata a ricevere il microchip che da tutte le apparenze sembra che quello sarà la marchia della bestia perché non esiste un altro marchi ingegno che ci abbia la proprietà del microchip per controllare i cervelli delle persone quindi preghiamo che il Signore vi guidi quello che dovete fare che è assolutamente importante che riceviate da Gesù che ascoltiate la sua voce in un modo sovranaturale per sapere se potete stare dove vi trovate o se Egli vuole che vi spostiate in un'altra città in un'altra regione su una montagna in un'altra nazione in un altro continente come nel nostro caso Gesù ci ha parlato e stavamo evangelizzando nell'Europa dell'Est e abbiamo pregato e il Signore ci ha mostrato che dobbiamo uscire dall'Europa dell'Est dall'Europa e addirittura andare in un altro continente siamo qui in Sud America e ci sentiamo assolutamente nel centro della volontà di Dio adesso siamo in un paese meraviglioso qui la temperatura è bella la gente è meravigliosa l'evangelizzazione va benissimo siamo molto ben ricevuti molti vogliono aiutarci e veramente ringraziamo Gesù però per arrivare in questa zona dove siamo abbiamo passato per diverse nazioni e quando ho chiesto al Signore perché mi ha fatto passare a tutti noi ci ha fatto passare attraverso posti sbagliati dove c'erano grandi pericoli di crimine eccetera e il Signore mi ha detto chiaramente perché Lui voleva che noi fossimo i pionieri che avevamo più esperienza per superare queste difficoltà pionieri per sapere cosa fare e cosa non fare per poter guidare meglio i fratelli che si sentissero guidati a venire nella nostra zona dove siamo ai quali offriremo il massimo della nostra cooperazione aiuto e guida spirituale se la richiedono e fellowship e comunione così nel nome di Gesù Signore prego grazie che tu guidi Signore i cuori gli spiriti e gli animi dei fratelli che ci stanno ascoltando Gesù che tu Signore mostri loro in un modo solo naturale Signore a cercarti per primo cercare prima a te il tuo regno la tua giustizia ascoltare la tua voce e sapere se devono rimanere dove sono se devono spostarsi di quanto devono spostarsi dove devono andare in un altro posto venire qui dove siamo tu devi mostrarlo Signore nel nome di Gesù Cristo aiuta questi fratelli a non addormentarsi a non lasciare che il diavolo li distragga a trovarsi problemi giornalieri a non fare come quelli ai tempi di Noè che mangiavano bevevano si sposavano finché venne il diluvio li portò via tutti Matteo capitolo 24 Luca capitolo 21 Marco capitolo 13 aiutali a svegliarsi Signore a ricercarti mettersi in ginocchio Signore giorno per giorno finché massimo uno due tre giorni sappiano quella tua volontà se devono digiunare che digiunino Signore ma sapere assolutamente quella tua volontà e che non si accovacci in addormenti in qualche chiesa addormentata aspettando che questo nuovo Hitler questo nuovo Stalin salga nel nel scenario mondiale Signore con il suo marchio Signore e sarà molto più difficile domani di quanto lo è oggi Signore nel nome di Gesù Cristo io prego Amen Gloria a te Signore aiuti i fratelli a non aver paura mettersi in contatto chiedere informazioni se possiamo aiutarli se possiamo aiutarli tu ci hai detto Signore che dobbiamo aiutarli il più possibile qualunque decisione loro si sentono guidati qualunque luogo si sentono guidati da te ad andare aiutarli a venire o andare ovunque vadano o rimanere dove sono dipende dalla situazione Signore nel nome di Gesù Cristo come tu hai detto Signore in Apocalisse 18 credo che sia verso 4 dice uscite da lei il popolo mio affinché non non siate partecipi dei suoi peccati e che non riceviate le sue piaghe quindi bisogna uscire dalle situazioni sbagliate nel nome di Gesù Cristo Amen proteggici Signore stanno arrivando le guerre atomiche profetizzate nella Bibbia sta arrivando Marchio della Bestia sta arrivando la tribolazione arriverà un momento che non potremo neanche tornare a casa e prendere la giacca Matteo 24 e tantomeno i nostri bambini le nostre moglie la nostra famiglia niente neanche il nostro passaporto e se siamo con le ciabatte non potremo neanche portare avere le scarpe per la neve le scarpe per la pioggia sarà terribile Signore assolutamente terribile aiuto il fratello a non addormentarsi a non essere come quelle come quelle di quali tu hai parlato Gesù che compravano vendevano si sposavano e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio li porterò via tutti quanti Matteo 24 nel nome di Gesù Cristo Amen grazie grazie a tutti i nostri a